Mezzanotte 35, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Giorgia Meloni torna in Emilia-Romagna insieme alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, otto mesi dopo l'alluvione e assicura un miliardo e duecento milioni dal PNRR per interventi di ricostruzione. L'Europa rimane con voi, ha detto la von der Leyen, fuori dalla sede del Comune, qualche contestazione. Vediamo. Il Governo, l'Europa e l'Emilia-Romagna alluvionata. Un'ora e mezza di bilaterale tra la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e la Premier, Giorgia Meloni, nella sala del Comune di Forlì. L'impegno di completare nel miglior modo possibile la ricostruzione dei territori più colpiti dall'alluvione di maggio scorso. Degli 8 miliardi di danni stimati e confermati dal Governo, ne sono stati stanziati in meno della metà e non sono neanche arrivati tutti. Quindi la promessa è quella di agire in fretta grazie anche allo sblocco dei fondi del PNRR che è stato da poco ridiscusso in Europa e che assicura un altro miliardo e duecento milioni di euro. Meloni e von der Leyen sono tornate laddove 8 mesi fa, nei primi giorni successivi all'alluvione, avevano visitato tutta la devastazione portata dall'acqua, un evento che aveva causato 16 morti e oltre 20 mila sfollati, ma ha anche distrutto terreni agricoli, aziende, case e strade. Infatti oggi, oltre alla delegazione dei sindaci, ad aspettare le due presidenti c'era anche un settino organizzato dai comitati di cittadini, imprese e comuni alluionati. Sulla piazza, davanti al municipio, un centinaio di persone ha protestato per i grossi ritardi nell'erogazione dei ristori. Ursula von der Leyen ha assicurato anche lo sblocco dei fondi per gli agricoltori, ci sono 60 milioni e ha assicurato che l'Europa non abbandonerà l'Emilia Romagna. E nella disputa tra gli alleati del centrodestra per le candidature alle regionali irrompe la magistratura. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro cautelare dei beni e degli immobili del governatore Sardo Solinas e di altri sei indagati come lui per corruzione. È lo sviluppo dell'inchiesta della Procura di Cagliere sulla compravendita di una proprietà del Presidente Sardo e sulla nomina di un'autority regionale. Il sequestro dei beni disposto dalla Procura di Cagliari contro il Presidente della Regione Cristian Solinas rischia di avere l'effetto di una bomba nel centrodestra, già in lotta e diviso sulle candidature alle regionali dell'isola. L'inchiesta sulla compravendita di una proprietà del governatore e su una nomina dirigenziale è iniziata più di un anno fa e vede Solinas ed altri sei indagati per corruzione. Il sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza di beni ed immobili del valore di 350.000 euro è l'ultimo sviluppo dell'indagine dei magistrati sardi. Nel primo filone con il governatore sono indagati l'imprenditore Roberto Zedda e il consigliere regionale Nanni Lancioni. Al centro dell'indagine la compravendita da parte di Zedda di una proprietà di Solinas ed il successivo acquisto da parte del governatore di una villa da 500 metri quadri al Poetto di Cagliari. In cambio, secondo l'accusa, Zedda avrebbe ottenuto una fornitura di termoscanner e la prosecuzione della commessa di materiale informatico. L'altro filone riguarda presunte ingerenze per la nomina di Roberto Raimondi al vertice dell'autorità di gestione del programma Eni, bacino del Mediterraneo, legata per gli inquirenti alla promessa di una laurea ad honorem per Solinas da parte di un'università albanese. Sotto accusa anche un consulente di Solinas, il rettore dell'Università di Tirana ed il direttore generale della iCampus. Magari in Commissione Affari Sociali della Camera la maggioranza va sotto sull'istituzione della Commissione Covid e la Presidenza decide di far ripetere la votazione. Il tutto alla vigilia del giuridonore istituito per il diverbio Conte Meloni sul MES. Domani sarà ascoltato il leader 5 Stelle. Venerdì la Premier. Approvato il mandato al relatore per l'istituzione della Commissione Covid, una decisione preceduta da uno scontro. Infatti al primo voto la maggioranza causa alcune assenze e va sotto. A quel punto il Presidente della Commissione Affari Sociali ammette un'altra votazione. Il centrodestra prevale, ma tra le forti proteste delle opposizioni che contestano la ripetizione del voto e abbandonano i lavori, accusando la maggioranza di aver cambiato le regole del gioco. A loro risponde il capogruppo di Fratelli d'Italia, Foti, che spiega Il regolamento prevede la controprova, cioè un nuovo voto, e che l'incidente non sussiste perché il testo sarebbe approdato in aula anche senza mandato al relatore. Parole non affatto condivise dai gruppi di minoranza che portano la questione direttamente in aula. Il dem Paolo Ciani dice Quanto accaduto in Commissione è molto grave. Chiediamo al Presidente Fontana di ristabilire la correttezza del nostro lavoro. Interviene anche il capogruppo pentastellato Silvestri. La maggioranza ancora una volta dice non riesce a presidiare le commissioni e le votazioni perché si sottovaluta l'importanza della presenza. Una figura barbina. A presiedere la Commissione Affari Sociali al momento del voto era il deputato di Fratelli d'Italia Ciocchetti che poi avverte la votazione se svolta con il massimo rispetto. Entrano nel vivo le attività del giuridonore sulle parole di Giorgia Meloni sul governo Conte e il MES. Domani sarà ascoltato per primo proprio il leader dei Cinque Stelle. Poi venerdì toccherà alla Premier. Sulla questione dei balneari, infine, il governo chiede altri quattro mesi di tempo alla Commissione per decidere sulle gare di assegnazione richieste da Bruxelles. Le notizie dall'estero adesso. Migliaia di persone sono tornate a protestare in Russia. È accaduto nella Repubblica della Baschiria dopo la condanna a quattro anni di carcere di un attivista noto per le battaglie ambientaliste contrario alla guerra in Ucraina. Baimac, capitale della Repubblica di Baschiria, molto lontano da Mosca, al confine col Kazakistan. Da queste terre, alla periferia dell'Impero, arrivano le prime immagini di rivolta contro le autorità locali, il governatore Kabirov, la polizia, la mobilitazione di giovani da mandare in Ucraina, lo sfruttamento di foreste e miniere e, a favore di chi di queste istanze, si è fatto portavoce. Fahil Alsinov, contarnato oggi a quattro anni di colonia penale per generiche accuse di razzismo. La storia parte da lontano. Con la sua associazione ambientalista, Aslimov si era messo in luce e infatti l'organizzazione è finita, fuori legge, nel 2020. Per un discorso, un post contro l'arruolamento dei giovani della Baschiria, le autorità locali lo hanno prima multato, poi arrestato, oggi condannato. Ma per la prima volta in quasi due anni si sono viste nuovamente proteste di piazza. C'erano migliaia di persone fuori dal tribunale per chiedere libertà per Alsinov e dimissioni del governatore. La polizia non è andata per il sottile, ha usato manganelli, gas e granate stordenti per disperdere i manifestanti e sedare le proteste. Sei persone sono state arrestate, molte sono tornate a casa, sanguinanti. Ma per il Cremlino, che deve fare i conti con la crisi dei riscaldamenti che continuano a rompersi e lasciare migliaia di persone ogni giorno al gelo, il messaggio è chiaro e arriva da una di quelle terre da dove per la maggior parte partono soldati per una guerra che Putin non intende fermare. Un filmato di una telecamera di sicurezza del kibbutz di Niroz è stato trasmesso dalla CNN. Mostra la decapitazione di due ostaggi israeliani da parte degli uomini di Hamas lo scorso 7 di ottobre. E a proposito di ostaggi, il ministro della difesa Gallant oggi ha ripetuto che si sta combattendo in modo tatticamente diverso a Khan Yunis per la loro liberazione che potrebbero esserci sorprese a breve. Proprio sugli ostaggi e su uno scambio di prigionieri elaborato dal gabinetto di guerra secondo la tv israeliana Channel 13 ci sarebbe stato un veto da parte di Netanyahu che intende combattere fino alla fine di Hamas. Khaled Meshall, uno dei capi dell'organizzazione, oggi ha chiarito di non volere alcun accordo sui due stati ma la liberazione della Palestina dagli occupanti. Intanto gli Uti hanno nuovamente sparato contro una nave americana senza serie conseguenze. In Ecuador è stato ucciso oggi a colpi d'arma da fuoco il pubblico ministero incaricato di indagare sul drammatico assalto armato trasmesso in diretta la scorsa settimana in una stazione televisiva. Il procuratore Cesar Suarez, questo il suo nome, è stato ucciso da un commando di sicari nella città portuale di Guayaquil, centro nevralgico della guerra dell'Equador contro le bande dei narcotrafficanti. E siamo allo sport in attesa delle semifinali di Supercoppa a Riadi in Arabia Saudita domani in programma Napoli-Fiorentina. La Juventus prepara il sorpasso all'Inter e la Roma si prepara al debutto di De Rossi contro il Verona. Non sapremo mai se la frase incriminata di Allegri su giocare a Guardi e Ladri per la corsa allo Scudetto avesse un significato malizioso. Una cosa però è certa, mentre il tecnico continua a dirsi felice per il vantaggio che aumenta sulla quinta, l'affidabilità della sua Juventus cresce e naturalmente anche l'autostima del gruppo. Il premio potrebbe essere il primato in classifica in caso di successo domenica a Lecce anche se con asterisco perché l'Inter salterà al prossimo turno per la Supercoppa in Arabia Saudita ma mentalmente il sorpasso sarebbe un bel tonico. Adesso la Juve ha il suo leader ritrovato in attacco quel Dusan Vlaovic brillante e libero di testa ormai ad un gol della doppia cifra. Sono quattro e un assist nelle ultime quattro gare. Tecnicamente non va trascurato l'apporto di Hildiz come seconda punta vera. Nella capitale cresce la curiosità per la prima Roma di De Rossi quella che deve affrontare il Verona. Il Totem giallorosso nel suo habitat naturale ritrova quattro ex compagni in campo e le Sciarawi Pellegrini Paredes e Cristante per quest'ultimo Stacanovista Colmurigno disse al suo addio da calciatore vorrei altri 100 Cristante purtroppo per De Rossi sabato non avrà l'originale nemmeno Mancini entrambi squalificati due pilastri di fronte alle molte avversità della squadra. Il tecnico lo scuro davanti alla gente romanista però ora i calciatori non hanno più alibi e non serve nessun paracadute. I principi del calcio di De Rossi sono offensivi utili per riconnettere Lukaku. Intanto Romani a Riad comincia la Supercoppa con Napoli-Fiorentina ad ottobre al Maradona il 3-1 impietoso della formazione italiano che però vuole riscattare i finali perse nella passata stagione. Venerdì la seconda semifinale Inter-Lazio nel 2019 il trofeo ad Inzaghi sulla Juve di Sarri. Siamo al tennis agli Australian Open la pattuglia italiana perde pezzi Arnaldi e Musetti eliminati ma insieme a Sinner prosegue il suo cammino Flavio Cobolli. Per gli appassionati italiani il sonno arretrato inizia a farsi sentire ma le soddisfazioni in campo non mancano di certo. In attesa di Sonego Alcaraz valida per il secondo turno è stato Flavio Cobolli a ritagliarsi un ruolo da primo attore battendo il russo Pavel Kotov numero 64 del ranking in 4 sofferti set. Per il giovane romano centesimo nelle classifiche proveniente dalle qualificazioni una tenuta mentale nettamente superiore al rivale nervosissimo per i molti servizi sbagliati ed una dedica speciale a Daniele De Rossi di cui ha tatuato sul braccio la scritta che compariva sulla fascia di capitano del nuovo tecnico giallorosso prossimo a versare il giocatore di casa De Minoru numero 10 del tabellone non ha tradito le attese Sinner che con un triplo 6-2 ha eliminato il secondo olandese in pochi giorni contro De Jong appena 161esimo al mondo altra vittoria netta lungo la strada che porta nei quartieri alti degli open l'alto a Tesino affronterà nel terzo turno l'argettino Sebastian Baez due invece gli azzurri che si sono dovuti fermare sul campo centrale Matteo Arnaldi ha perso nettamente proprio contro il quotato De Minoru raccogliendo appena 5 game mentre Musetti è crollato alla distanza contro il 19enne talento francese Vanache mentre era in vantaggio per 2-7-1 Lorenzo dopo aver vinto il tie-break del terzo conduceva 3-2 nel quarto ma ha inanellato una lunghissima serie di errori per un totale di 10 game consecutivi lasciati al Transalpino è finita 6-3-6-0 sono stato proprio bravo a perderla l'amaro sfogo del giocatore toscano è tutto l'informazione torna domattina alle 7 con l'edicola grazie per essere stati con noi e buonanotte grazie per la visione